Buonasera a tutti. L'altra settimana sono stata ospite dell'associazione Il Cenacolo per un caffè letterario delicato Vittorio Alfieri. Eravamo alla caffetteria Carlo Alberto di Piazza Statuto di Asti e io ho recitato una bellissima poesia scritta da Alessandro Boero, poeta astigiano, esperto di Vittorio Alfieri, che si intitola Piacevole mi accoglie la sera, un titolo molto bello. Piacevole mi accoglie la sera, nel mio arinile recondito, tra odore di mare al tramonto, quando ogni fantasia pervera. E rimiro laggiù, tra sole e onde, nel soffuso riflesso amaranto del sole, ormai caduco e lianto, l'eterna beltà che il cuore confonde. Cosa scondi, sconfinato orizzonte? Quanto ti inseguirò per scoprirmi a rese? In vano m'appello al Giano Bifronte, che l'anima mia, senza trovare intese, avaccarmi forza, qual crudele racconte. Io, io, che son di ferma stirpe piemontese. Aminone tevi salve. Aminone tevi salve.